Musica Bella a tutti ragazzi bentornati sul canale di GeneticDNA E in questo nuovo video, terzo appuntamento con Splinter Cell Blacklist Allora facciamo questa bella missione a Chicago Dopo una delle giornate più sanguinose della storia militare americana Scorsiamo un po' il briefing Un video che mostra le truppe americane giustiziate dagli ingegneri è disponibile online Dati i suoi contenuti forti non ve lo mostreremo Il presidente Caldwell ha giurato di vendicare la morte dei caduti e continuare la guerra al terrore Ma al congresso c'è scetticismo sulla sua capacità di condurre il paese fuori da una crisi di questa portata Abbiamo incrociato i dati della difesa con le telemetrie di altre tre fonti Tutto punta a Dallas ma nulla di specifico I punti possibili sono questo e questo Lo stadio e l'acquario Se atterriamo a Love Field invece che a Fort Worth risparmieremo tempo una volta a terra Ti aggiorneremo costantemente Domande? Sì, perché Charlie è nervoso? L'ho già detto a lei Dillo anche a me Ho esaminato i dati dell'antiterrorismo delle maggiori città In cerca di risultati sulla no-fly list Cos'è? Niente Proprio un bel niente Niente TSA a Chicago oggi La no-fly list è rimasta offline per ben cinque ore Manutenzione, l'hanno confermato Ehi, fallo finire Ho fatto un controllo dei passeggeri dei voli in arrivo con la no-fly list mancante Sono usciti sei nomi Ora guarda qui Telecamere di sicurezza dell'aeroporto OR Quei sei sono usciti insieme Non dico che sia niente, ma non è una nostra priorità Intercettazioni da più agenzie confermano Dallas Questo prova che ho ragione Nessuno ha detto niente prima di Guam E l'ultima volta che gli ingegneri hanno messo info in rete Le forze speciali sono state massacrate Quanto dista Chicago cambiando rotta? È troppo lontana, Sam Abbiamo una sola possibilità E se non troviamo niente a Chicago Non facciamo in tempo per Dallas Sam Andiamo a Chicago Anche se Charlie vede legami non vuol dire che esistano Il presidente... Mi ha dato piena autorità su questa operazione E può levartela se rifiuti l'ordine di andare a Dallas Un attacco diretto ora non ha senso Non dopo quello che è successo a Mirawa Cos'è? Swat di Chicago Stanno affrontando una situazione con ostaggi Prepara l'elicottero Le planimetrie mostrano un vero e proprio labirinto E ci sono pure degli ostaggi Il gasso porifero manderà nanne cattivi senza nuocere i civili E le microcamere ti aiuteranno con i bersagli E le microcamere ti aiuteranno con i bersagliati Bene, 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 bene Ora vediamo un po' di configurare un po' Quello che ci serve E si parte con la missione Consumi americani Chicago, Stati Uniti Difficoltà normale Cercherò di caricarne un po' di più di questi gameplay però Veramente il tempo Il tempo che ho è veramente poco ultimamente Quindi Faccio Chicago Chicago Volevano solo assicurarsi che la polizia girasse a largo dalla zona Perché prendere ostaggi se non vuoi niente? Potrebbe essere qualcuno al di sopra degli ingegneri Per metà delle agenzie dall'asse ancora il punto cardine Allora Qui pagiamo Il timer è a zero Ora non si torna indietro Ma certo che non si torna indietro Ok Il truc Bene Ok Perfetto Una bella sbircettina qua sotto Allora Allora Non c'è nessuno Ok Ci prendiamo le luci E ora siamo al buio Anche se più o meno ci si vede comunque Cazzo Ok qua Il bisogno notturno non mi serve per il momento Oh oh Eccoli lì I nostri amici Allora tu Buonanotte Carino E uno Allora cerchiamo di far dormire un po' tutti qua Eccoli c'è un altro Vieni Vieni Oppala E via andare Sono ninja Silenzioso e letale Adesso vedremo che mi faccio sgamare come un cretino la musichetta è felice dov'è quell'altro fesso? sa che dobbiamo attirarlo con la telecamerina dove sei? eccoci lì vieni qua sono io bubù vieni vieni buonanotte miaw boing dove cazzo? ok allora qua sembrerebbe tutto tranquillo sembrerebbe però non mi voglio sgamare non ho la minima idea di dove sto andando però fa niente cazzo no dai non voglio usare si oppa la la cazzarola oh oh no cazzo cazzo minchia porca trota no dai sposa di cazzo merda oh oh dai cazzone venite qua tutti e due pezzi di merda ma no ma che cazzo ma vaffanculo non gli ho fatto niente ma che cazzo venite ad aiutarmi con la ricerca eh si vaffanculo facciamolo eh si tua sorella cazzo cazzo e si incastrato ok passiamo di qua vediamo un po' io non vedo nulla perché sei scemo ecco perché non vedi nulla ma vaffanculo ho sbagliato porca troia volevo sparargli vabbè facciamo perdere vorrei giocare una volta al mese sto gioco non mi ricordo neanche più i tasti allora beh sto scemo l'area è libera dividiamoci ah ah quasi quasi mi arrampico su quel tubo lì eh vado a aspettare che sto stronzo passa ah vorrei tanto spararti ma preferisco spararli tutte e due anche coloro che ce l'hanno in fondo ok arrampichiamoci qua ma non ho tentato di chiudere la porta salta su oh cristo santo salta su mmm madonna santa ok non c'è bello che non lo sa tutto il mondo che sono qua ok tu 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 vai uno e due ok ho fatto un po' di bordello ma fai niente ok prendiamo la luce riesci a vedere gli ostaggi no adesso praticamente mmm tuc vensi ancora che sia un attacco blacklist lo sopito poing ci riforniamo che è meglio c'è che va di non fare tanto bordello qua ok fumogeno voilà piano pianino piano pianino che qua non c'è nessuno piano pianino oh oh tu che te cazzo tutti e due tutte e due perfetto cazzo eh 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 ok vediamo se riesco a trovare qualche cazzo di gadget qua in giro ok qua non c'è niente vedete qui si russano come delle locomotive cazzo ok facciamo un po' di prima che arriva qualcuno li vede cazzarola non si vede niente qua ci metto un po' a mettersi a fuoco eh mi piace oh merda ok qua dovremmo aspettare che questo stronzone si leva dalle palle da qui vai levati levati sono Sam Fisher guazza fottuto pezzo di merda ok allora qui spegniamo questa boing poi anche quella boing e poi periamo leva più non ho capito qué terrorismo ogni tanto parlano inglese ogni tanto parlano italiano vabbè comunque Ma dove cazzo sono finito? Ho sbagliato strada Porca la miseria Aspettate un attimino Che qua ho ratato qualche cosa Ah c'ho uspa Aspetta che ti do Una mano a vedere Buonanotte Buonanotte Cazzo che ci sono gli ostaggi Porca la paleta Ma stanno trombando Oh ma paura Eccolo lì Il bastardello Addio amico Come ti trafingo Zagde Buah Eccolo là Vieni qua Vieni qua Vieni qua Che cazzo stai andando? Oh oh Adesso se quella là non ha pianta Di rompere i codini con quei gemi Ti li sparo Addio Ma pianta L'ostaggio di merda Di mugolare Cazzo Mi da sui nervi Come cazzo si scende Porca puttana Si ma è ridicolo Che non salta giù Ti sparo se non la smetti Pelanda di uno Miau Il corridoio è aperto Guarda i tubi lungo il soffitto Potrebbero fornirti copertura Ok Oh 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 Guardate chi c'è Ehi Zaccate Pomm Morto Stacchito Bastardo Ok 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 Tutte a nanna Tutte a nanna Alle Oh shit Ma che bull shit Che minghiai da rompere i coccione Oh guarda un po' cosa c'è qui Spoink Spoink Oh oh cattura cattura C'è un ostaggio lì C'è un bersaglio Oh che palle Ma che ferito gravemente Non è ferito Ma dai Ancora Ma te lo do io Il ferito gravemente Pa 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 Uppala E via Eccolo qua Catturiamolo Tracca te Quanto mi piacciono queste missioni stealth Silinciuse Silinciuse Letale Ok Ok È un vecchio canale fognario Pare che conduca ad un Ad un impianto di filtraggio Forse è il loro bersaglio No il drone non risponde Un attimo Ne invio un altro I tuoi uomini mirano all'impianto di filtraggio Perché Fan culo Te lo dico Armi batteriologiche Usalo Una malattia Per appelenare le scorte idere Come disinnesco le bombe sugli ostaggi Il codice Il drive sulla mia cintura Ti ho detto tutto quello che sapevo Ti ho aiutato Non puoi uccidermi Ti prego Io invece ti uccido perché mi stai sul cazzo Bye bye Sono cattivo Sono al lato scuro di Sam Fisher E io mi sbrigo Corri Sam Ok Praticamente qui l'ho aperta Oh 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 Guarda un po' cosa c'è qui Oh ok Ti ringrazio Valigiotta mia Ma che cazzo è? Oh merda un drone Fan culo Ok Sam C'è una cosa che devi sapere su quei droni Si Il colpo ti mette fuori uso Ma tui colpi fanno scattare la carica esplosiva Potrebbe tornarti utile al momento giusto Tutto qui Ok grazie amico Tututututututu Dove sei? Eh vieni qua Vieni vieni Ti aspetterà una piccola sorpresina amico mio E io ho sbagliato Bottone Merda Ok risolto Ok forse è meglio che tu vieni con me Tututututututu E ti nascondo qui Ok sei più o meno al buio? Sì Tutututu Ok Ancora merda drone del cazzo Oddio mio santo Ma Baffanculo Eh per forza Che ho battuto il drone Che cazzo Sì Ok quello là Lo facciamo dormire Buonanotte amico E questo drone qui Direi di Ma va Ok Uh Ma dai Eh sì avvicinati dai Avvicinati Ancora un po' Uh Porca troia Dite che si è fatto male Cazzo Mi sa che il drone è andato Ma dai Sei intelligente Ma quanti cazzo ne hai di droni scusa Che cazzo stai facendo Che cazzo stai facendo Stronzo Oh cazzo è morto è morto quello Al culo crepa Ancora un culo crepa Ecco Forza Forza coraggio Una bella missione stealth Tutu tutu tum 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 Che belle lucine blu azure oh cazzo oh cazzo oh ok adesso ti butto giù nel mare no ho sbagliato bottone cazzo riprendiamolo su come che era? ok così vanno giù ciao ciao ok qua c'è ancora questo ok 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 tu 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 vedo che ti stai avvicinando all'impianto di filtraggio esatto oppala guardate lì un po' cosa c'è e via andare ok buonanotte cari spero di averli presi tutti e due quando ce ne sono ok penso di averli presi tutti e due ok uno e due ok non dovrebbero più vedermi sentite come mi sento un ninja ninja semplicere il ninja come dovrebbero avere tipo 80 anni cazzo sto tipo ed è ancora agile come se ne avesse 20 vabbè min min un po' un po' l'altra che se zacchete è morto secchito un atto atta decriti a molletta spasso da qua abbiamo a che fare con dei professionisti uuuh ce ne sono due lì ho guardato un po' mh interessante ok ho fatto puoi andare Sam mmmm facciamo così facciamo uno e due uuuh yeah heeeh sono velocissima tac non so che cazzo serve a sparare queste luci ma io lo faccio lo stesso perchè è figo tru 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 stanno pompando la gente in due posizioni ne occupo io stanno pompando la gente posso provare a chiudere la valvola fallo 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 si padrona faccio io ooooh cazzo vuoi tu non mi vedi tu non mi senti perchè io non esisto tru 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 ok questa commissione qua la faccio mega veloce perchè abbiamo 10 minuti per fare questa missione cazzo stanno contaminando l'acqua dovremmo disattivare le due pompe dalla gente chimico buh vabbè ci proviamo eh che vuoi sti faccia di merda io ci provo ma mi sa che cazzo 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 dai merdoso pezzo di merda promessa che c'hanno le maschere e sti pezzi di stronzi eh dai coglione levati dalle palle porca puttana vai levati cazzone io rischio mi fa culo rischiamo porca puttana muoviti ok uuuu il bastardo vieni qua addio ok ok tu pensa ok dovremmo trovare il passaggio lì dentro però lì vedo che c'è una la mappa mi segna un rifornimento eccolo qua perfetta perfetta ok siamo a buon tempo ne abbiamo fatto uno e abbiamo ancora tempo perfetta ecco il passaggio quel che scappa dos eccolo lì l'alta Cazzo Oh merda Spero che non mi sgama quello C'è neanche uno là Merda Merda Ok Passa Passa via Quello non mi vede Ok disattivato Olè Merda Sei messo proprio lì in mezzo Perché Come troppo tardi Dai levati Presto 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 Oh mio dio Oh mio dio Mo mi faccio sgammare lo so Oh cazzo Porca troia Che cazzo ci fa lì No merda Cazzo fai Vaffanculo Oddio Vaffanculo Proprio adesso che stavo arrivando qua Merdoso pezzo di stronzo Chiuditi Prima che mi vedano fare qualcosa qui Eccola Dai chiudi Chiudi sta merda Puff L'impianto è contenuto L'attacco consumi americani è ufficialmente fallito Bel lavoro Sam Ora ti tiriamo fuori da lì Briggs Sono atterrato Andiamo Bella ragazzi Missione completata Ora vediamo i punteggi E vai un trofeo Che dovremmo aver fatto diciamo abbastanza bene Abbastanza stealth diciamo così Ok vediamo un po' Pantera Vabbè Sì ok Ok buono Direi che è abbastanza buona no? Ok ora vediamo quanto siamo stati crudeli Ok due Dai non è male Bonus 34 minuti Dove? Su 65 Vabbè Ci può stare dai Ma sì Un po' di bonus Merci Molto bene Aspettiamo il briefing Dopo Non è male Non è male Non è male Sì È male Un po' di bonus Un po' di bonus Sì pensa che ci difenderemo è questo il suo piano noi invece andremo all'attacco e come? non abbiamo bersagli e non possiamo distogliarci dalla blacklist se continuiamo a inseguire gli ingegneri prima o poi riusciranno a farcela gli daremo la caccia lo spingeremo a sbagliare bene ragazzi questa missione è finita vi aspetto ai prossimi gameplay ciao ciao a tutti da GeneticDNA grazie a tutti